Rafforzare i presidi e le misure di sicurezza per i lavoratori delle fabbriche del nucleo di Termoli. Attivare anche e subito gli screening di massa. Queste richieste sono arrivate direttamente dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti, sul tavolo del presidente del COSIB, Roberto Di Pardo, che ha raccolto l'appello e ha scritto ai direttori delle numerose aziende appartenenti al consorzio. Il virus continua a correre, l'andamento del contagio va rallentato, i numeri restano preoccupanti. Il COSIB, fa sapere Di Pardo, ha già da tempo individuato, infatti, nello screening a cadenza quindicinale, una strategia di contenimento efficace. Lo screening dei propri dipendenti, il presidente del COSIB si rivolge alle aziende, risulta necessario a completare il quadro dello stato dei contagi del territorio. Nella FCA di Termoli, la più grande azienda del polo industriale, i contagi rispetto alla settimana scorsa sono scesi di sole quattro unità, da 44 a 40 positivi, da 42 a 34 il numero di dipendenti in quarantena precauzionale. Come atto preventivo l'orario di mensa è stato spostato a fine turno, in tal modo c'è chi sceglie di mangiare a rientro a casa, evitando rischi di assembramenti. Chiusi in via precauzionale, spogliatoie docce, e nei weekend aumentate le procedure di sanificazione degli ambienti di lavoro. L'amministrazione comunale di Termoli, come annunciato, avvierà nei prossimi giorni lo screening volontario e gratuito per i cittadini, iniziative già in atto in diversi centri del Basso Molise. A Guglionesi, oltre mille tamponi effettuati da mercoledì a questa mattina. Nei prossimi giorni, ha detto il sindaco Mario Bellotti, screening sulla popolazione scolastica di 500 persone circa. Sempre in modalità drive-thru, controllo di massa, anche a Petacciato a partire da oggi e a Casa Calenda nella giornata di domani, grazie all'iniziativa offerta dalla consigliera regionale Aida Romagnolo. Screening anche a Portocannone e Larino. Nel centro frentano test antigenici rapidi al terminal degli autobus. Due le modalità di accesso all'area prelievi, sia in auto che a piedi, così come a Santa Croce, nelle giornate di oggi e domani. I sindaci raccomandano ordine e disciplina.